Salve a tutti e ben ritrovati all'AgriWeek Recap, il primo AgriWeek Recap del 2024, ovviamente una settimana intensa, sono stato a Bruxelles, sono stato a Roma per varie commissioni e a Bruxelles abbiamo affrontato un po' le tematiche da mettere in discussione in questo 2024, soprattutto la riforma della politica agricola comune, ovviamente ci siamo soffermati anche sul mio dossier sulla gestione del rischio che si discuterà in plenaria per fine mese. In Regione tantissimi appuntamenti, tutti orientati ovviamente anche ad una sorta di conseguenzialità rispetto alle cose che abbiamo lasciato un po' in sospeso, abbiamo fatto un tavolo sulla forestazione con le comunità montane, con le province, con i sindacati, abbiamo ripartito i fondi che abbiamo destinato con la delibera di giunta per il fondo della programmazione forestale e devo dire che abbiamo fatto un gran bel lavoro, riconosciuto anche da tutti gli attori al tavolo. Qui si tratta di davvero dare seguito ad un new deal che abbiamo messo in campo e devo dire che ci sono tutte le condizioni per rilanciare definitivamente questo settore e soprattutto per diventare la foresta della nostra Regione una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio. C'è stato un errone molto importante con l'ufficio pesca della Regione, abbiamo parlato di FEAMPA, della programmazione che stiamo mettendo in campo, partiranno tra qualche settimana i nuovi bandi, stiamo definendo anche con il tavolo azzurro tutti i dettagli della nuova programmazione. Con i tavoli di settore ci incontreremo la prossima settimana, ci incontreremo anche con i flag che abbiamo ormai definito, non si chiamano più flag ma si chiamano gall marini e abbiamo parlato anche ovviamente di acque interne con la legge che stiamo predisponendo e che presto porterò in giunta. Insomma anche per il settore della pesca grande attenzione. Poi abbiamo fatto una riunione sulla promozione, abbiamo rivisto un po' le fiere che abbiamo messo in programma nel prossimo biennio e stiamo mettendo in campo anche una nuova modalità di interfaccia con le imprese. Ci incontreremo prima di ogni manifestazione fieristica e ci incontreremo dopo. Prima per avere delle proposte e dopo per avere un feedback dalle nostre imprese. ringrazio anche gli uffici promozione della nostra regione che si stanno dando da fare in questo momento per ascoltare sempre di più i nostri imprenditori. Ovviamente tante altre riunioni, ho incontrato il settore caccia della nostra regione e con l'ufficio stiamo cercando di programmare degli incontri nella prossima settimana per definire anche gli atti amministrativi da mettere in campo per soddisfare sempre più le esigenze ma sempre nell'ottica del rispetto delle norme e anche della condizione nella quale si trova la regione campania. Ma ci sono state tante altre riunioni, ho incontrato presidenti di consorzio, ho incontrato presidenti di comunità montane, amministratori locali, sindaci. In particolare evidenzio l'incontro con Antonio Bove, un agricoltore virtuoso della nostra regione che produce lavanda e che da diversi mesi mi sollecita ad una maggiore attenzione verso questa cultura. Cosa che metteremo in campo nelle prossime settimane. Sono stato poi un'intensa e intera giornata in provincia di Salerno, sono stato presso il caseificio Iemma, Lazzaro e Roberto, due valenti giovani, stanno rilanciando in maniera importante il caseificio di famiglia, abbiamo assaggiato anche la mozzarella stupenda ed ero in compagnia anche dell'intero staff di Confagricoltura, Rosario Rago, c'era anche Fabrizio Marzano, un po' tutto lo staff di Confagricoltura Salerno. Una bella esperienza, è una mozzarella davvero buona, la stessa mozzarella buona che ho ritrovato a pochi chilometri di distanza presso il caseificio Vannulo, un'altra eccellenza della nostra regione dove ovviamente mi sono intrattenuto anche con Nicola Palmieri, il grande patron del caseificio Vannulo e sono stato presso quel caseificio anche per partecipare al road show di fiera agricola dell'ente fiera di Verona, c'erano tutte le associazioni agricole della nostra regione e ho rappresentato anche la forte determinazione della regione campania ad accompagnare questo percorso anche per innalzare il livello di ambizione della nostra agricoltura intesa non solo come agricoltura della regione campania ma del nostro paese. L'altra metà giornata in provincia di Salerno l'ho trascorso immergendomi nel mondo del volontariato visitando realtà davvero uniche che hanno reso davvero bella la mia giornata. Sono stato presso il Banco Alimentare con Roberto Tuorto, ci ha illustrato la sua azienda, tutte le cose belle che fa, si tratta del primo banco alimentare italiano e che dà assistenza a tantissime famiglie, davvero migliaia di persone. Ci ha raccontato anche dei progressi che sta mettendo in campo ma anche dalla necessità di interfacciarsi meglio con le istituzioni. Poi sono stato presso la Caritas di Don Flaviano Calenda, abbiamo anche lì discusso delle grandi attività che i volontari mettono in campo per accompagnare i momenti di particolare difficoltà in cui sempre più persone si ritrovano nella nostra regione e nel nostro paese. E poi sono stato anche da Matteo Marzano presso la cooperativa Labbraccio, ci siamo anche trattenuti a mangiare lì, abbiamo degustato un ottimo risotto e ci siamo confrontati sulle attività che Matteo e il suo staff sta mettendo in campo. Davvero una bella giornata che mi ha reso sempre più consapevo della necessità di mettere in campo iniziative a sostegno dei più deboli. Nell'immersione nel mondo del volontariato in provincia di Saino sono stato con il mio amico Tommaso Pellegrino e con le mie amiche Chiara Ganda e Lella Paita, peraltro con loro abbiamo anche fatto una bellissima riunione a Nocera dove abbiamo discusso un po' dell'Europa e della necessità di arrivare agli Stati Uniti d'Europa, quindi con una grande ambizione che dobbiamo mettere assolutamente in campo. Parlando di Europa, ovviamente siamo sfociati anche nelle prossime elezioni europee, c'è stata anche una grande incitazione da parte dei presenti circa la presenza in questa prossima competizione elettorale, ma di questo ne discuteremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana, però consentitemi, il saluto particolare di quest'oggi va a un mio grande amico a Pietro Di Bernardo che ci ha fatto trascorrere delle ore davvero terribile nell'ultima settimana, abbiamo temuto per la sua salute, ma lui da grande eroe si è davvero ripreso alla grande, adesso è uscito dalla terapia intensiva e si è già immerso nel mondo della riabilitazione. Aspettiamo presto Pietro ovviamente per ripartire con i nostri progetti, un grande abbraccio a lui, ai suoi figli e a sua moglie. Ciao a tutti!